Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguori, Albano e Romina tornano insieme, questo è il sogno neanche tanto proibito dei tanti fan in questo video, parleremo delle ultime parole sciocche, trarremo le conseguenze, prima di iniziare vi ricordo che a 700 mi piace pubblicherò immediatamente un nuovo video per l'ottantesimo compleanno di Albano, si è tenuto uno spettacolo fantastico, 4 volte 20 all'Arena di Verona abbiamo assistito ad un vero e proprio trionfo della musica e dello spettacolo italiano a partecipare tutta la famiglia di Albano e tanti big della musica come Iva Zanicchi e Renato Zero, Albano ha 80 anni in splendida forma sia dal punto di vista canoro che dal punto di vista fisico insomma 80 anni e non sentire Albano ha il temperamento e la forza di un ragazzino ma soprattutto il cuore si è fermato per qualche istante quando Albano ha lanciato direttamente o indirettamente tante frasi forse tanti messaggi nascosti a Romina Power come volendo ti sceglierei un'altra volta inoltre segnaliamo anche la frase ti ho aspettata per 16 anni molto probabilmente dietro queste parole di Albano c'è ancora amore ma molto probabilmente per le varie storie intrinseche Albano e Romina al momento sono ancora distanti ma in futuro cari amici youtube mai dire mai e scrivete nei commenti voi cosa ne pensate pensate che ci sia uno spiraglio per rivedere Albano e Romina insieme non soltanto dal punto di vista musicale ma anche in un eventuale riunione sentimentale io onestamente ci spero e sul primo gare di Marco Liguori realizzeremo spesso contenuti su Albano e Romina vi ricordo che potete iscrivervi anche alla pagina facebook albano carrisi fan club amici youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale rispondete alla domanda voi cosa ne pensate di un futuro sentimentale insieme tra Albano e Romina ciao a tutti